Stai ascoltando riflessioni e considerazioni sulla tua strategia IT per il tuo business online Oggi voglio parlarvi di un tema caldo e complesso come quello del modo giusto di scegliere una tecnologia. Il tema è tratto da un libro che sto leggendo di cui riporto il link in descrizione al podcast e gli autori partono da 5 errori che generalmente si commettono durante questa scelta. Non voglio dilungarmi oltre, andiamo in questi 5 punti che vengono elencati, sono 5 modi che sono spesso sbagliati in cui selezioniamo un software, gli errori che chiunque ha dovuto fare software selection si è trovato a commettere. Il primo è quello di scegliere una tecnologia per il semplice fatto che abbiamo già la licenza in casa, abbiamo già il software in casa e possiamo capire perché scegliamo quel software, lo conosciamo bene forse tecnologicamente, quindi lo vogliamo sfruttare al meglio, al massimo e quindi il problema è che una tecnologia non per il solo motivo che ce l'abbiamo in casa è giusta e adatta al nuovo progetto che sta partendo o alla nuova situazione o al nuovo problema che ci troviamo ad affrontare. Quindi questo è un primo errore che solitamente si sceglie quello che già conosciamo, quello che abbiamo in casa, quello che abbiamo già investito un budget per averlo in casa e diciamo perché no sfruttarlo ancora e ci sentiamo anche abbastanza furbi nel farlo. In realtà prima bisogna individuare quale problema dobbiamo risolvere e poi scegliere la tecnologia più adatta alla sua soluzione. Se quello che abbiamo in casa si avvicina molto a quello che dobbiamo fare va bene, ma se ha molte zone d'ombra allora è meglio che adottiamo un'altra soluzione che matcha, che è molto più compatibile, che è molto più vicina all'esigenza che ci troviamo ad affrontare. Sembra manale ma questo errore è commesso spesso. Un altro errore che elenca il secondo è quello di scegliere una tecnologia solo perché una certa azienda di cui proviamo profonda stima oppure l'ennesimo guru ci dice guarda questa è la tecnologia top e nel suo ipotetico quadrante in alto a destra non possiamo non adottarlo, non possiamo non sceglierla. Anche qui non ci dobbiamo fare abbindolare, dobbiamo essere molto focalizzati sulle nostre esigenze e non farci furbiare dal trend del momento, dal guru del momento che ci indicano una strada, ci indicano e noi guardiamo l'indice piuttosto che la luna. Quindi dobbiamo stare profondamente focalizzati perché potremmo incorrere in questo errore. Un terzo che viene indicato è quello di scegliere una tecnologia perché abbiamo visto una demo e ce ne siamo innamorati. Le cose fantastiche di questa tecnologia noi diciamo questa tecnologia è fantastica, noi siamo anche sensibili perché abbiamo usato tecnologie che invece ci hanno lasciato la mare in bocca, sentiamo questa tecnologia che invece è fantasmagorica, supera su tutti i punti di vista le ormai superate tecnologie che invece fanno parte del nostro quotidiano e noi siamo, rimaniamo proprio allibiti da questa tecnologia, ce ne innamoriamo, ce ne infatuiamo e invece dobbiamo andare a vedere un po' sotto il cofano di ogni tecnologia. Ogni tecnologia ha i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, i suoi pro e i suoi contro e quindi ha i suoi problemi e i problemi vengono come i nodi, vengono al pettine quando la si porta al limite delle sue possibilità e quindi dobbiamo saperne come uscirne, avere una strategia di uscita da quella tecnologia, come rimpiazzarla, come sostituirla eventualmente in un secondo momento, come affiancarla e quindi dobbiamo andare al di là della prima infatuazione e andare nel dettaglio. Un quarto punto che invece viene elencato è quello di prendere una tecnologia perché, non so, i nostri competitor nel nostro stesso settore la stanno usando e ne stanno parlando un gran bene e ci sembra anche che stiano prendendo il largo e che le cose gli stiano andando col vento in poppa a gonfie vele. In realtà, prima cosa, se siamo proprio identici ai nostri competitor, forse non è un gran bene, ma quello è un altro discorso, ma anche noi abbiamo le nostre specifiche esigenze, bisogni e così come ce le ha il nostro target a cui ci ricoporgiamo. Quindi dobbiamo anche lì non adottarlo perché tutti lo stanno facendo, ma capire bene se è il caso di adottarla oppure forse non siamo così uguali ai nostri competitor da doverla adottare. E poi l'ultima che fa anche un po' ridere il nome di fantasia, questo lo posso anche citare, si chiama checklist fetish, cioè dire se siamo anche dei fanatici della nostra checklist, cioè immaginate che volete scegliere un software e incominciate a elencare le cose che quel software comunque dovrebbe avere. Ecco, quello può essere una sgrossatura per scegliere all'inizio un software, ma non il fatto che superi i filtri della mia checklist, allora la soluzione è adatta a me. Potrebbe essere che sì, passa inizialmente la mia checklist, quindi posso continuare a sperimentare, indagare se è il caso di adottare quella soluzione, ma non è condizione necessaria e sufficiente direbbe un matematico per adottarle in pieno. Quindi anche qui facciamo attenzione a non basarci solo su un'unica fonte che è la checklist. Spero che questi cinque punti vi abbiano fatto riflettere su quanto sia importante scegliere una soluzione software, questi cinque errori potrebbero essere un primo campanello di allarme su come avete adottato una tecnologia o perché state per adottarla, quindi se state prendendo decisioni un po' affrettate e vi riconoscete in uno di questi possibili errori o potenziali errori, scrivetemelo qui nelle note. Se volete anche voi incominciare a leggere o capire da dove ho tratto questo primo argomento, seguite il link in descrizione. Se volete farmi altre domande o chiedere approfondimenti su altri temi potete scrivermi sul canale Telegram e fatemi sapere se vi ritrovate in questi errori, se ne avete commessi degli altri e se siete interessati ad argomenti come questo sulla strategia IT. Grazie per l'ascolto e spero di ritrovarvi nella prossima registrazione del podcast. Grazie 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 Grazie